E la storia di oltre 2 milioni di sfollati iracheni all'interno del Kurdistan durante la guerra con lo Stato Islamico è Map of Displacement, la mostra fotografica allestita nella Galleria Spagnuolo a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, fino al 30 marzo. 40 immagini realizzate dal 2014 al 2015 da Stefano Carini, Dario Bosio e da 6 fotografi iracheni che documentano cosa significa essere un profugo. Nel momento in cui ci siamo messi a raccontare questa storia qua, che racconta della guerra lontano dalle frontlines, ma racconta dell'impatto umano della guerra, volevamo mostrare la varietà di esperienze che caratterizza la situazione degli sfollati. Quindi oltre al campo sfollati anche le persone che ricominciano a vivere trovandosi un lavoro, continuando il lavoro che prima facevano a casa e cercando di riprendere a lavorare nella loro condizione di sfollati, tendiamo a vedere lo sfollato o il rifugiato come un essere passivo, che vive all'interno di un campo sfollati, che vive nella tenda mentre aspetta qualcosa. In realtà le condizioni dello sfollato sono estremamente varie. Al di fuori dei campi sfollati noi vedevamo famiglie che si ingegnavano per ricominciare a vivere al di fuori delle tende. Di grande potenza evocativa sono le 15 foto scattate alle giovani donne della minoranza yazita, ridotte a schiave sessuali dai militanti dell'ISIS. Quattro anni dopo, ancora più di un milione di sfollati vivono nel Kurdistan, molti dei quali senza più una casa a cui tornare. Molte delle persone fotografate in questo momento sono rifugiate in Europa, per esempio, compresi alcuni dei fotografi che hanno lavorato a questo progetto, altre sono tornate nelle loro case e altre non hanno nessuna casa a cui tornare. La mostra è visitabile a Palazzo Lascaris fino al 30 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.